Dall'entrata in noviziato fino al sacerdozio. In seguito partecipa ad un ritiro di alcuni giorni predicato dai frati domenicani a Po. Qui la Tast incontra per la seconda volta i frati predicatori e in lui rinasce il desiderio di consacrarsi a Dio. Dopo aver incontrato anche altre realtà religiose ed essersi confrontato con le regole di altri decide di entrare nell'ordine dei predicatori. Mercoledì 4 novembre del 1857 entra così noviziato nel convento dominicano a Flavigny, Borgogna e il 13 dello stesso mese riceve l'abito insieme al nome di Jean Joseph. Durante l'anno di noviziato, nonostante le precarie condizioni di salute, sarà pervaso da una profonda gioia e serenità interiore. Non capisco come sia possibile che io sia così calmo, così tranquillo, così felice. Speravo certamente di esserlo, ma non senza dolore, senza lotta, senza combattimento. Il buon Dio, lo vedo bene, governa le mie forze. Riserva le forze al momento in cui sarò più forte. Dopo l'anno di noviziato, le scarse condizioni di salute lo costringono a trasferirsi presso il convento di Saint-Romain, in Tolosa, per poter favorire dell'amitezza del clima. Qui inizierà a studiare la teologia, dove si accentuerà il suo interesse per la Sacra Scrittura e la Somma Teologie di Santo Maso d'Aquino, e il 10 maggio del 1859 emetterà professione religiosa. Tuttavia, sempre a causa di una fragile salute, sarà rinviata anche la sua ordinazione sacerdotale e soltanto l'8 febbraio del 1863 sarà ordinato presbitero.